Anticipazioni. Endless love. Niham cerca di contattare Emir, ma lui non risponde perché è sotto la doccia. Così Niham entra nella sua stanza e vede il telefono di Emir squillare. Notando che la chiamata proviene da Zainab, diventa sospettosa. Decide di rispondere e riconosce la voce di Zainab, la sorella di Kemal, che parla con Emir in modo amichevole. Questo lascia Niham molto turbata. Nel frattempo Kemal riceve una chiamata da Zehir, che si trova fuori dalla casa di Galip per una missione di sorveglianza. Zehir avverte Kemal del rischio di essere scoperti, ma Kemal sembra avere un piano e dice di non preoccuparsi. Quando Emir esce dalla doccia, trova Niham arrabbiata e pronta a confrontarsi con lui. Lei lo accusa di avere una relazione con Zainab e Gli chiede di restare lontano da lei. Emir, ironico, le chiede se lavora per i servizi segreti e minimizza la questione. Niham è indignata e Gli dice che lo troverà disgustoso, se continua a comportarsi in questo modo. Prima di andarsene infuriata, Gli dice che farà di tutto per fermarlo. Niham, ancora arrabbiata, prova a chiamare Zainab, ma lei, temendo guai, spegne il telefono e non risponde alla chiamata. Kemal chiama Asu, per verificare che tutto sia pronto per l'incontro con i soci stranieri. Asu conferma che è quasi tutto organizzato, tranne la location, che va ancora decisa. Dopo aver terminato la chiamata, Kemal riceve una telefonata da Zehir, che Gli dice di essersi infiltrato come operaio. Zehir riferisce che Galip è uscito senza la sua valigetta. E Kemal, Gli dice di rimanere in attesa di ulteriori istruzioni. Nel frattempo, Zainab si incontra con Salih, che è entusiasta di vederla e inizia a parlare del loro futuro matrimonio. Zainab lo interrompe, spiegando che non potrà sposarlo perché non prova amore per lui, e lo vede solo come un vecchio amico. Salih rimane sconvolto dalla rivelazione, e le chiede di non contattarlo più, dicendo che se dovesse cambiare idea, lui non sarà più disponibile. Zainab, guardando Salih allontanarsi, si sente finalmente libera. Emir si dirige verso la casa di suo padre, ma la sicurezza gli nega l'accesso. Furioso torna in macchina e se ne va. Poco dopo, riceve una chiamata da Zainab, ma decide di ignorarla. Zainab, non ricevendo risposta, gli invia un messaggio chiedendo se possono incontrarsi, poiché ha del tempo libero. Proprio in quel momento Zainab riceve una telefonata urgente da Nihan, che le chiede di incontrarsi subito per discutere di una questione importante. Kemal entra nell'ufficio di Emir nella sede dell'azienda per incontrare Galip. Contemporaneamente, Nihan avverte Leila che arriverà in ritardo al loro appuntamento a causa di un imprevisto. Nihan incontra Zainab, e durante la conversazione, Zainab nega di avere rapporti con Emir, affermando di non averlo mai incontrato. Nihan, però, è convinta che Zainab stia mentendo, e le consiglia di stare attenta a Emir, dicendo che è una persona pericolosa, e che è meglio starne alla larga. Nel frattempo, Tariq trascorre del tempo con Banu, mostrando un chiaro interesse per lei. Mentre passeggiano insieme, il loro momento intimo viene interrotto da un incontro casuale con Kemal. Vedendo Tariq in compagnia di Banu, Kemal si rende conto che Tariq sta collaborando con Emir. Questa rivelazione lo colpisce profondamente, provocando una reazione di sdegno e tensione crescente tra i due fratelli. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti «Voglio il continuo» e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!